Ti bacio e tremi, ma dopo tu ridi, ma questa è la felicità, ma questa è la felicità. Bambina tu sei, che piccolina mi sembra signorina, quando ti vado a cercare. Bambina tu sei, che piccolina mi sembra signorina, quando ti vado a cercare. Bambina tu sei, che piccolina mi sembra signorina, quando ti vado a cercare. Il posto del Cile, chiamato Iquique, che in lingua aimara significa hogar del sogno, cioè luogo del sogno. Ma il Cile è veramente un luogo dove si sogna? Io credo di sì, perché la similitudine è sparsa per tutti i posti del Cile, perché c'è la cordillera, c'è il mare, c'è la neve, è un posto per sognare. Il Cile non è un luogo geografico, è un luogo dell'anima. E di fatti già gli aimara, prima della scoperta dell'America, avevano già indicato nel suo nome là dove la terra finisce, come se il mondo finisse lì. Quindi per finire il proprio sogno di vita bisogna arrivare in Cile. Invece tu sei andato e sei voluto ritornare. Sì, perché il luogo dove sono nato è qua. E come lo diceva io, andare ha senso solo se ritorni. È un andare e ritornare. Quindi il tuo sogno nasce in Cile e finisce a Oppio? Non lo so. Nessuno può sapere dove finisce qualcosa. Solo quello di sopra lo sa. Come vorresti finire il tuo sogno, Dino? Il sogno della tua vita, come vorresti finire? In tranquillità e con i miei figli vicini. Quindi in Cile, perché loro stanno in Cile. No, una sta in Inglaterra, l'altra può essere che torni a Oppio e la piccola vuole venire qua anche. Penso che un sogno bellissimo sarebbe tutti e tre qui a Oppio.